Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dell'estrazione del Super Enalotto. Chi possiede oggi, sabato 3 maggio, la ricevuta della giocata del Super Enalotto può vincere 16.828.971 euro. Le operazioni relative al concorso numero 52 sono iniziate, le 90 sfere per la sestina vincente e il numero jolly sono state caricate e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo il via all'estrazione di questa sera. Le 90 sfere sono scese nell'urna elettronica e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo subito a scoprire il primo numero della sestina vincente. Il primo numero estratto è il numero 45 Il secondo numero di questa sera sta arrivando Il secondo numero estratto è il numero 72 Ora siamo al terzo numero, con il Super Enalotto già vinci con 3 punti Il terzo numero estratto è il numero 85 E' il momento del quarto numero che ci porta verso premi molto importanti Il quarto numero estratto è il numero 60 Il quinto numero è il penultimo numero Il quinto numero estratto è il numero 33 Con l'ultimo numero la sestina vincente di questa sera sarà completa Il sesto numero estratto è il numero 15 Abbiamo i sei numeri che possono assegnare il jetpot Passiamo all'estrazione del numero jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria Il numero jolly di questa sera è il numero 44 Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 45 72 85 60 33 15 Numero jolly 44 Passiamo ora al numero superstar Il numero che potete scegliere voi o che vi viene assegnato casualmente dal terminale di gioco Già al momento della convalida della giocata Vi può far vincere premi istantanei da 5 a 10.000 euro La sua estrazione verrà grazie a questa seconda urna elettronica caricata con sfere dall'1 al 90 E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera e vi ricordo che il numero superstar premia anche lo 0, l'1 e il 2 E moltiplica 25 volte le vincite del 5 e 100 volte quelle del 4 e del 3 Il numero superstar di questa sera è il numero 60 Ricontrolliamo insieme tutti i numeri relativi al concorso numero 52 delle Super Enalotto con la sestina vincente in ordine crescente 15, 33, 45, 60, 72, 85, numero jolly 44, numero superstar 60 L'estrazione di oggi sabato 3 maggio è terminata Tra pochi minuti scopriremo insieme se il jetpot di oltre 16 milioni di euro è stato assegnato a uno o più vincitori Vi aspetto qui su Sisa al TV, la rete in diretta con la fortuna Ben ritrovati qui su Sisa al TV, la rete in diretta con la fortuna Poco fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti relativi al concorso numero 52 che vi ricordo ha messo in paglio un jetpot di oltre 16 milioni di euro Anche questa sera il Super Enalotto ha per voi numerosissimi premi Abbiamo infatti 88.022 vincite Ma è il momento di scoprire insieme se il jetpot è stato assegnato a uno o più vincitori E il computer ci comunica che Non è stato realizzato 6 nel 5 più 1 I 5 sono 7 e vincono 45.589 euro ciascuno I 4 sono 817 e vincono 392 euro ciascuno I 3 sono 33.748 e vincono 18 euro ciascuno Passiamo ora a Superstari Il numero stella che moltiplica le vincite del 5, 4 e 3 E premia anche lo 0, l'1 e il 2 Andiamo nel dettaglio a vedere tutte le quote Nessun 5 stella I 4 stella sono 3 e vincono 39.251 euro ciascuno I 3 stella sono 141 e vincono 1895 euro ciascuno 100 euro vanno ai 2290 due stella 10 euro vanno ai 15.789 uno stella 5 euro vanno ai 35.227 e 0 stella Andiamo a scoprire il jetpot del prossimo concorso 17.300.000 euro Vi ringrazio per essere stati qui con noi Il Super Nadotto vi dà appuntamento a lunedì 5 maggio Sempre qui su Sisal TV La rete in diretta con la fortuna La rete in diretta con la fortuna La rete in diretta con la fortuna La rete in diretta, con la fortuna La rete in diretta con la Games! Grazie a tutti